Siamo in Puglia, vi avevo detto che partivo, questo è il nostro hotel in Campania. Sembra una fattura, quella fontana. Siamo andati a Fasano, c'erano tanti animali, anche nel parco c'erano gli animali come i safari, non siamo riusciti a vederli tutti perché stava per chiudere ed è bellissimo. Adesso andiamo nel viaggio del Salento che ci vorrebbero tre ore a toccare la punta. Tre perché abbiamo fatto cinque ore, vabbè, ieri notte c'era un grillo e un gecko qua, sembra che ci stanno le anime morte, però è bellissimo. Io ho deciso di prendere anche l'appartamento, vabbè, non è il momento di fare queste cose, nel frattempo è meglio che finisca quel video, è meglio che lo chiuda. Sto parlando piano perché mi sentono tutti. Ciao! Grazie.